Salve a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, io sono SoskrivoShotender e oggi siamo qui su la maledizione, l'episodio numero 6 a quanto mi ricorda, allora nell'episodio precedente siamo andati verso la, dopo aver tenuto la mappa della foresta infinita, siamo andati verso la foresta infinita per avere più coordinate dei vex, in più di qualcuno che la controlla e cioè Pantes. Che è un pezzo abbastanza grosso, quando ci ha scoperto la nostra posizione ha rapito Saghira, la sua anima diciamo, l'anima di Saghira e ritorna il nostro spettacolo e ora ne dobbiamo parlare di cosa per parlare di questo fatto. Uno dei due futuri terminerà oggi. Ok, cosa ci si dice, lo diterà. Noi non possiamo farlo. Perciò... Ok, grazie Coda. Iniziamo molto debitori. Dobbiamo raggiungere Panoptessa prima di Osiride. Senza Saghira il suo fianco potrebbe morire per sempre. La foresta infinita è enorme. Non avrei mai immaginato. Quando il destino del mondo non sarà in pericolo. Eh beh, ci torniamo. Raga, potrebbe essere anche l'ultimo episodio. Qua troviamo di tutto di... Tutto di... Proprio, tutto troviamo. Di tutti i come li troviamo. Oh e battene Cosa? Boom Boom E boom No Secondo Ecco Ora si ragiona Dismitraglio Vieni qua Non sfuggi a me Maledetto Devo cercare di arrivare prima Dio si dice Perché come ha detto Aspetto Potrebbe morire senza Sagira Non sfuggi a me Non sfuggi a me Non sfuggi a me Si Pi Ciao I vex qui non mancano mai Dov'è? Oh ma ciao Proprio Da quanto tempo io non ti vedo Non ti ho visto per niente anche se Ah L'alveare si comincia a crearsi un odio profondo Sulla spada bello mio Non ti ho visto per niente anche se Ok dobbiamo andare verso di qua Ok abbiamo accesso forse alla foresta infinita Ma anche se forse ci siamo già Corone dell'infinito Campi di vetro Un bel terreno di gioco qua Eccolo Pantes Abbastanza È gigantesco Che vuole fare Dex Pantesco Grazie a tutti. Ragazzi, la carica la voglio tenere per il pezzo grosso. No, no, ho sbagliato l'arma. No, metto pure qua. No, ma quanti ce ne sono? Che vigliacco. Ah, devo proprio fare una specie di prova. Che codardo, maledetto. Ma sei schifoso proprio. Guardalo. Pure i corrotti. Cioè, non basta, ma pensavo che il comandante fosse la divinità dei Vex, ma invece no. Puoi ricordarti dei cabal? Veramente? Guarda che fifone. Ma penso che lo fa apposta. Pure l'alveare. Pure l'alveare, scherziamo? Ah, spero che non si ritiri più. Non spero davvero. Ora sei che ti posso ammazzare finalmente. No, ti pego. Ma te che mi fa immune. No, ti pego. No, ti pego. No, ti pego. Grazie a tutti. 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 Ok, penso... No, l'ho mancato. Ah, la maliarda, quanto tempo. E fatti ammazzare. Oh, l'ho... Ok... 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 Ha pochissima vita. Non mancano molti colpi. O meglio... Ne bastano solo pochi. Kabal... Ovviamente... Ovviamente... Non lascia... Non lascia... Non lascia scappare Panops. Ok... Ok... La tua... La tua... Presenza... Qua... Finisce... Finisce... Dai... Ma non manca molto per abbatterlo... Non lascia... 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 Son... Non... No... Non lascia... No, ho finito tutti quei pesanti, ci manca solamente questo Tutto qui è quello che sai fare? Dai, abbiamo quasi finito Ah, sta la vista, amico! Ah, sta la vista! Ah, ah! I torenni è finito Mamma mia, che difficoltà Mamma mia, ahia, che difficoltà unica, mamma mia Ah, ahia, che difficoltà La mente Vex è distrutta e con essa l'accesso al futuro nero che ci accendete E intanto per farvi sapere, i nostri guardiani sono stati fantastici I nostri guardiani? Il mio guardiare? Osiride, quanto tempo è passato Troppo, mia Stavo per dire allieva Ma quella parola è riduttiva nei tuoi confronti Ho avuto altri insegnanti Il tempo Il dolore Un guardiano che tramuta l'impossibile nel possibile Che posso considerare un amico Il mondo è cambiato Anche la città Potresti tornare con me? No, il mio posto è qui Abbiamo fermato i Vex in tempo Ma molte equazioni portano alla stessa soluzione Se riuscissero a trovarne un altro D'altronde Ho predetto molte cose Ma non ho mai visto Ora noi abbiamo un futuro Questo è un grande elogio da fatti di Osiride Vieni, Lumina Abbiamo realtà infinite da esplorare E tutto il tempo del mondo Ragazzi Che dire È finito Tutto Completamente Ragazzi Che dire Il video si conclude qua Spero che vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale Se ne avete già fatto Commentate Mettete like Ragazzi Ci vediamo alla prossima serie Bella